Domenico Sorrentino per Daily Basket e Lega 2 qui con l'allenatore di Trento Maurizio Buscaglia. Coach, fa davvero male perdere così? Sì, abbiamo fatto una bella partita. Fa male perché avevamo recuperato la palla, purtroppo la contesa non era nostra. L'abbiamo strappata, ma dopo il feschio. Abbiamo forse esagerato nel cercare l'anticipo nell'ultima palla, perché era a metà campo, se ne stavamo davanti, lo caldo secondo, oltre alla bravura di Mestri per fatto Canestro. E poi l'azione precedente, due episodi, peccato insomma, credo che abbiamo fatto un'altra grande partita considerata la bravura degli avversari, considerata il nostro momento e tutto. Abbiamo fatto un altro passo verso la vittoria e speriamo che arrivi la prossima volta. Grazie coach, buona sera.